Il servizio di Nicoletta Lanzano Per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici, tutte le 176 istanze trasmesse dai comuni, 15 progetti nel territorio provinciale di Avellino, 35 in quello di Benevento, 32 in quello di Caserta, 49 in quello di Napoli e 45 in provincia di Salerno sono risultate finanziabili per un investimento complessivo pari a circa 8 miliardi di euro. Delle amministrazioni provinciali sono risultate finanziabili 64 istanze per un importo pari a circa 4 miliardi di euro. Sono 4 i progetti candidabili presentati dall'ente provinciale di Caserta, 15 di Benevento e 45 di Salerno. Non sono pervenute proposte da città metropolitana e provincia di Avellino. La Regione conferma il suo impegno a favore degli studenti campani e per la sicurezza degli ambienti scolastici, commenta l'assessore all'istruzione Lucia Fortini. Prima vera scuola di ceramica in Campania, approvata dalla Giunta regionale della Campania, con un protocollo di intesa che attiva a Vietri sul mare l'istituto patrocinato dalla Regione Campania. Atto firmato dall'assessore alla formazione Chiara Marciani. Nel terzo trimestre 2018 crollano gli occupati, lo dice il report trimestrale Istat, il servizio di Nicoletta Lanzano. Nel terzo trimestre del 2018 gli occupati diminuiscono di 52 mila unità, meno 0,2% rispetto al trimestre precedente, ma aumentano di 147 mila unità, più 0,6% rispetto al terzo trimestre del 2017. Lo rileva l'Istat nel report sul mercato del lavoro, sottolineando che il tasso di occupazione resta stabile al 58,7%. Diminuiscono soprattutto i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, meno 0,7% sul trimestre precedente e meno 1,5%, pari a un calo di 222 mila unità rispetto al terzo trimestre 2017. Gli occupati sono 23 milioni e 255 mila. Il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre cala al 10,2%, con una riduzione di 0,5 punti rispetto al trimestre precedente e una riduzione di 1,2 punti rispetto allo stesso trimestre del 2017. Lo rileva sempre l'Istat sulla base dei dati destagionalizzati, sottolineando che ha aumentato il tasso di inattività al 34,5% più 0,4 punti. I disoccupati sono 2 milioni e 653 mila, con una riduzione sia congiunturale, meno 5,1%, sia tendenziale, meno 12,1%, pari a un calo di 332 mila unità. Nel terzo trimestre del 2018, gli occupati a termine erano 3 milioni e 112 mila, il valore più alto dal 1992. L'attuale tassa sui rifiuti taris favorisce le famiglie con redditi più bassi, non incentiva un uso più responsabile delle risorse ambientali e andrebbe così riconsiderata, cambiando i parametri di calcolo della tariffa e quanto emerge da uno studio di Banca d'Italia. Con una media di 2.064 euro, è Roma la città dove IMU e Tasi sono più alte. Lo dice il servizio territoriale della UIL in vista del saldo dovuto per dicembre. La scadenza è il 17 dicembre e dentro questa data bisognerà versare il saldo IMU-Tasi. L'erario incasserà 10,2 miliardi di euro per un totale complessivo di 20 miliardi di euro. 25 milioni di proprietari interessati da questa scadenza. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Aggiornamenti sul sito competitorjournal. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.